L'Italia non è quella vista nel primo tempo con la Francia, ma non va neanche giudicata per quei 45 minuti fatti male, perché può capitare. L'Italia è quella che ha fatto una bella cosa al mondiale, è quella che ha fatto le qualificazioni per l'europeo ed è quella che è qua. Quindi adesso cercheremo di dimostrare il valore, si può sbagliare, siamo umane e affronteremo l'Islanda con ancora più determinazione e consapevoli del fatto che bisogna portare a casa il risultato. Bjorg è un'attaccante fisica, molto brava anche secondo me tecnicamente, gioca parecchio di squadra, quindi è davvero una giocatrice completa ed è anche una grande amica, quindi sarà bello sfidarla. Dobbiamo stare attenti all'Islanda perché fisicamente sono forti. Sì, sicuramente abbiamo un po' parlato, abbiamo un po' analizzato la partita, ma soprattutto gli aspetti mentali che poi non abbiamo portato in campo perché comunque non eravamo lucidi, non eravamo le solite, quindi ci siamo messe un attimo a tavolino, abbiamo parlato di quello che comunque è il nostro sogno, qual è il nostro obiettivo e abbiamo fatto tutto in me a colpa, ci siamo presi tutte le nostre responsabilità e abbiamo deciso di voltare pagina appunto per fare bene. Il giorno dopo della partita, la mattina è stata sempre un po' così, un po' triste, poi siamo riusciti ad andare a fare una passeggiata, quindi abbiamo staccato la spina, è stato importante quello anche un attimo per ricaricarci, per ricompattarci, e quindi adesso siamo molto più tranquilli e cariche per la prossima partita.